Buonasera a tutti, io mi associo ai saluti fatti da chi mi ha preceduto e sono qui per portare innanzitutto a tutti voi il saluto da parte dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati della sezione di Bari e sono molto orgoglioso della sinergia già citata dal collega Procacci tra la nostra associazione e quella del gruppo dei giovani avvocati amministrativisti di Bari al quale anche io ho l'onore di appartenere, sinergia che spero possa proseguire nel futuro. Ringrazio per questo gli organizzatori per avermi invitato ad intervenire ad un evento con dei relatori così illustri ai quali cercherò di togliere il minor tempo possibile su un tema così attuale e delicato come quello delle interdittive antimafia un tema di attualità e di assoluto interesse non soltanto per gli operatori del diritto ma anche per le imprese per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di voler contrarre con la pubblica amministrazione o proseguire i rapporti già in essere. Non ho usato a caso il termine delicato perché se è vero che come avremo modo di ascoltare questi sono dei provvedimenti amministrativi è altrettanto vero che talvolta assumono il carattere afflittivo tipico delle misure penali traducendosi sostanzialmente in una forma di incapacità giuridica delle imprese a proseguire appunto i rapporti con le pubbliche amministrazioni. da un lato è vero che il principio di prevenzione che queste misure raggiungono e garantiscono si sposa perfettamente con il preminente interesse pubblico alla scongiurare qualsiasi tipo di ingerenza di stampo mafioso all'interno della pubblica amministrazione ma è altrettanto vero che non è sempre facile come è stato detto conciliare tale interesse pubblico con il principio costituzionalmente garantito di libera iniziativa economica tenendo presente anche del tentativo fatto dal legislatore del 2011 con il codice antimafia che ha cercato di dettare alcune delle fattispecie tipiche nelle quali applicare tali misure tuttavia ovviamente è stato impossibile disciplinare tutti i casi ed è stata lasciata un ampio spazio un ampio margine di discrezionalità al prefetto nel valutare caso per caso il quadro indiziario che porterà all'emissione di una misura interdittiva antimafia. È anche vero che il tema è stato più volte trattato non soltanto dalle corti nazionali ma anche dalla corte europea dei diritti dell'uomo che talvolta ha definito tali misure a carattere sostanzialmente penale ponendo e rilevando un ulteriore problema di compatibilità con i principi dettati dalla carta europea dei diritti dell'uomo sulle norme penali ossia tipicità, tassatività, ecoprocesso e retroattività. Per questo motivo sono molto contento dell'opportunità che avremo oggi e di come è stato strutturato l'evento odierno per ascoltare da un lato l'autorità amministrativa e di capire attraverso la relazione del dottor Nunziante per capire qual è il procedimento logico che nella fase della valutazione degli indizi e del quadro indiziario che conduce all'emissione di tale misura. Dall'altro lato attraverso la relazione del Presidente Garofoli avremo l'opportunità di capire come il giudice valuta tutti questi elementi nell'ambito del sindacato di legittimità sul provvedimento prefettizio. Concludo con una provocazione, qualche autore ha definito le misure interdittive antimafia e la sua disciplina un'area di non diritto, una pena del sospetto e io mi chiedo se questa non può essere una nuova frontiera per il giudice amministrativo per un intervento deciso in relazione alla sua vocazione storicamente pretoria. Grazie.